A me mi è caduta la mascella quando sono andata su questo punto della tua conferenza, dove fai vedere questa sequenza, man mano che forma il fiore della vita, a che cosa corrisponde. Ed è relativo, volendo vedere, anche alla creazione dell'uomo. Più avanti c'è un'altra slide che spiega questa cosa. Ma già paragonare le immagini legate al fiore della vita con quello che è scientificamente visto attraverso un microscopio è sconvolgente. Certo, perché come già abbiamo detto, il frutto della vita in questo caso credo che sia, tutte queste immagini vengono, ripeto, da grandiose civiltà nel passato che purtroppo si sono corrotte e sono crollate. Ma quegli schemi erano gli schemi naturali dei campi energetici che danno forma alla materia. Quindi il fiore della vita, alla fine, nella sua forma compiuta, è l'essere umano. E al centro del fiore della vita c'è quello che è diventato anche un simbolo politico, che è il fiore a sei petali. Ma il fiore a sei petali rappresenta anche il monogramma di Cristo, la stella a sei raggi. Non è un caso che la base della sostanza vivente biologica sia l'acqua e con gli studi di Masaru Emoto, pronunciando la parola Cristo o Christos, il cristallo d'acqua prende la forma del monogramma di Cristo. C'è il fiore a sei petali o la stella a sei raggi. Quindi nella natura di queste figure che giungono fino a noi come cose esoteriche o artistiche, in realtà sono solo schemi scientifici di campi energetici che danno alla materia vivente quelle capacità straordinarie che poi portano alla compiutezza della creazione. Quindi scienza. E' questo l'aspetto sconvolgente. Tirare fuori un aspetto scientifico da un qualcosa che fino al giorno prima era stato considerato solamente esoterico, ecco come dicevamo prima, o simbolico o mistico. In realtà c'è ben poco di mistico, c'è molta concretezza qua. Però vederlo ci aiuta. Questo processo è stato profetizzato da Giovanni l'Evangelista, che lui scrive un libro che conosciamo tutti come nome per no meno, perché è diventata una parola di uso comune, che è l'Apocalisse, l'Apocalisse di Giovanni. L'Apocalisse di Giovanni non fa altro che spiegare un processo che sarebbe avvenuto nel futuro, che non è solo quello delle catastrofi, tutte quelle robe strane, tutti quei simbolismi strani che Giovanni propone, ecco lì vediamo che dal micro al macro le strutture energetiche creanti sono sempre le stesse. Cioè alla fine Dio con poche cose ci fa un po' tutto, è un grande economista. E quindi oggi siamo nel tempo dell'Apocalisse, perché la parola Apocalisse significa rivelazione. Quindi il tempo della rivelazione, che oggi il tempo dell'Apocalisse era il tempo della raggiunta maturità dell'umanità, o comunque di una parte dell'umanità, che è buona e utile per strutturare il cosiddetto nuovo regno, che non è altro che una società dove l'equilibrio della materia e dello spirito raggiungono la loro condizione stabile. E quindi oggi tutte quelle antiche verità, che prima erano esoteriche, allegoriche, misteriosofiche, eccetera, eccetera, entrano compiutamente, ma grazie anche alla tecnologia scientifica analitica che abbiamo oggi, entrano compiutamente nella loro fase di diffusione alle masse. Ovviamente le masse, la maggioranza, non sono pronte, ma ci sono tante persone, come te, come tante altre, io stesso, che non è che sono nato con queste conoscenze, che possiamo comprendere e fare nostre queste straordinarie conquiste del sapere. Quindi oggi è il processo della rivelazione, cioè dell'Apocalisse. Si rivela a pieno la natura dell'evoluzione di ciascun essere umano, sia nel positivo che nel negativo. Grazie a tutti.